Discarica contrata a Grotte San Giorgio, scoppiano le proteste dei lavoratori nella zona industriale, stanchi della puzza emessa dalla discarica. Olezzo acido e nauseabondo, odori insopportabili, narici sofferenti e occhi arrossati, sono questi i fastidi accusati dai lavoratori e dai passanti. Angelo Mazzeo, segretario provinciale della UGL, denuncia l'inerzia di chi non agisce per controllare che tutto sia norma e per far sì che la situazione non precipiti ulteriormente. Da verificare sarebbe anche l'ideonità del materiale utilizzato per la copertura dei rifiuti e il sistema utilizzato per catturare eventuali tracce di biogas. Mazzeo sottolinea che l'odore è così insopportabile da provocare malesseri ai lavoratori.